Si svolgeranno domani, mercoledì ad Agrigente, i funerali della vittima di femminicidio Patrizia Russo. Uno dei difensori nel frattempo ha incontrato Giovanni Salamone. Si svolgeranno domani, mercoledì 23 ottobre, ad Agrigente i funerali di Patrizia Russo, l'insegnante di 53 anni uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone, mercoledì scorso all'alba nella camera da letto della loro casa Solaro in provincia di Alessandria. Il rito funebri alle ore 15.30, nella chiesa Sacro Cuore di Gesù, in via Madonna delle Rocche. Nel frattempo uno dei due legali che assistono Salamone, l'avvocato Elisabetta, Anja e Lerri, ha incontrato l'imprenditore agricolo Agrigentino Reo Confesso, nel reparto psichiatria dell'ospedale di Alessandria e alle agenzie riferito. È sempre molto difficile comprendere i motivi di gesti come questo, l'interpretazione che posso dare che si tratti di un atto di chi, come il mio cliente, piano piano matura le conseguenze di quello che ha compiuto. Il mio assistito, tutto sommato, sta bene e si trova ancora sotto terapia. Giovanni Salamone, 61 anni, nella prima serata del 18 ottobre, lo stesso giorno della convalida dell'arresto, ha tentato di suicidarsi con un cappio rudimentale ricavato dalle lenzuola, ma è stato bloccato in tempo dagli agenti della polizia penitenziaria. La prima che ci sono stata un'espasso di 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 un'espasso, ma è stato bloccato in tempo dagli agenti della polizia e da la polizia penitenziaria.